Fu travolto ed ucciso da un autobus TM lungo la strada regionale 69 mentre si era fermato per soccorrere un capriolo ferito, vittima dell'incidente Argante Sinatti, ex dipendente Enel, all'epoca pensionato. La Corte di Appello di Firenze adesso ha condannato l'autista che si trovava alla guida del mezzo ad otto mesi oltre al pagamento di una provvisionale ai familiari costituiti parte civile, ribaltando così il giudizio in primo grado d'Arezzo che si era concluso con l'assoluzione. L'appello invece ha rilevato la colpevolezza del conducente con la relativa sospensione della licenza di guida. Per i familiari, la figlia e il genero e tre nipoti stabilita la provvisionale di 20.000 euro sarà poi il procedimento civile a stabilire l'esatta quantificazione del risarcimento del danno per la morte dell'uomo. I fatti risalgono al 4 novembre del 2017. Il pensionato stava attraversando nel tardo pomeriggio con la sua auto il ponte di Pratantico quando notò l'animale agonizzante sul ciglio della strada. Scese dall'auto per spostare il capriolo, ma alle sue spalle arrivò l'autobus della linea 9TM. Complice all'oscurità e la fitta pioggia, l'autista non lo vide e frenò solo dopo aver sentito il tremendo impatto. Sinatti venne colpito alla testa in altre parti del corpo e morì sul colpo.